Sì, torniamo in India dopo lo Sri Lanka, vogliamo vedere anche le danze legate alle musiche del cinema indiano di Bollywood, quindi so che ballerete anche voi con loro perché sta per salire una compagnia di ballerini professionisti, loro sono capitanati dalla ballerina indiana e coreografa Amli Abraham, lei pensate è stata la prima a portare questo stile qui in Italia, lo stile di Bollywood in Italia. 22 anni fa, ovvero nell'anno 2000 e oggi ovviamente è uno stile conosciuto in tutto il mondo, questo gruppo ha partecipato a un sacco di trasmissioni televisive sia nella nostra tv italiana sulle reti DAI, sulle reti media, sia nella televisione estera, hanno anche partecipato a tantissimi festival in giro per l'Italia, in giro per il mondo, sono pronti e noi lo siamo per ballare insieme a loro, facciamo un grande applauso alla Bolly Masana Dance Company. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.